Questa settimana ci soffermiamo su un prodotto non conosciuto da molti, il cosiddetto asparago d'inverno che viene definito scorza nera. Questo tubero in latino viene chiamato anche curzio onis, cioè vipera, oppure radice di serpente o pianta di ostrica nera. Andiamo a scoprire perché. La scorza nera è infatti una pianta originale dell'Europa orientale e i greci la conoscevano con il nome di barba di becco. Il nome deriverebbe curiosamente non dal colore della scorza ma da quello della vipera in quanto nel medioevo era considerata come un antidoto contro i morsi dei serpenti. Secondo altri fonti il suo nome deriverebbe da un'antica parola spagnola e scorzo che vuol dire proprio vipera che richiama l'uso delle radici della pianta come antidoto. Appartiene alla famiglia dei carciofi e topinambur viene chiamata anche asparago d'inverno in quanto viene raccolta a partire da ottobre per tutta la stagione invernale. La pianta si compone di larghe foglie verdi e fiori gialli che somigliano alle margherite. La parte commestibile della pianta sono le radici simili a una carota ma di colore scuro. Sono infatti ricoperte da una buccia nerastra che viene eliminata prima del suo consumo. L'Italia è coltivata soprattutto in Liguria, Piemonte e Friuli e la troviamo soprattutto nei negozi bio. Nonostante la scorza nera sia bruttina come i biscotti brutti ma buoni il sapore è accattivante ed è per questo che la pianta è molto utilizzata in cucina. Per pulirla la buccia nera va eliminata, la polpa bianca riposta in un contenitore con acqua acidulata per evitarne l'annerimento. Viene solitamente cucinata a vapore per 20 minuti, un po' tagliata a pezzi e abbinata solitamente a risotti, pesce o carne. Qualche chef l'ha proposta anche come purè. 100 grammi di scorza nera valgono appena 27 chilocalorie. Basso l'indice glicemico è consigliato il suo utilizzo per persone che soffrono di diabete. È utile per la crescita di capelli, per il sistema osseo, promuove una sana digestione ed è il regolatore della pressione sanguigna. Particolarità, in Sicilia vengono realizzati gelati e sorbetti con la scorza nera, un'usanza introdotta nella regione dagli arabi che nei periodi di caldo bevevano il sorbetto di scorza nera con l'aggiunta di vaniglia e latte.